Sicuramente stanno mettendo pressione anche al sindaco di Trieste perché se si va ad elezioni anticipate chissà che non facciano cadere anche il sindaco. Quelli sul comune di Trieste non sono gli unici riflessi di una possibile caduta del governo nazionale. La deputata del PD Deborah Serracchiani attacca e nel mirino c'è la Lega che starebbe spingendo in questa direzione, rendendo concreta l'ipotesi di elezioni anticipate in ottobre. La vedo molto possibile, l'idea che ha in testa la Lega è soprattutto Salvini, vuole spingere l'Italia fuori dall'euro e fuori dall'Europa e per farlo ha bisogno della tempesta perfetta, cioè difficoltà economiche, ormai siamo simili alla Grecia se non peggio, il taglio delle pensioni, meno lavoro e così saremo costretti, anzi saranno costretti a buttarci fuori. La prospettiva di prepararsi a una nuova campagna elettorale è emersa anche dal vertice regionale della Lega, anche se il segretario Fedriga precisa. Questa riunione semplicemente ho ribadito che il governo va avanti se vengono rispettati gli accordi previsti dal contratto di governo, io sono fiducioso in tal senso, ma questo vuol dire mettere in campo la diminuzione della pressione fiscale, continuare sulla lotta all'immigrazione clandestina, avere un governo che funziona e fa bene come ha fatto nei primi dieci mesi di mandato. Altrimenti è chiaro che stare al governo a prescindere non ha senso perché il governo è un mezzo, non è un fine. Fedriga ha parlato chiaro, ha riunito i suoi, sta mettendo pressione al sindaco di Trieste, chissà che rimanga a fare il presidente della regione oppure non vada magari in altri luoghi a occupare poltroni ancora più pesanti. La poltrona è un mezzo, non può diventare un fine perché altrimenti vorrebbe dire ridursi come coloro che hanno preceduto, da Renzi a Gentiloni ai vari esponenti del PD che sono stati ancorati alla poltrona a prescindere. Noi vogliamo dare risposte ai cittadini, voglio essere ottimista e quindi la prospettiva del governo è di quattro anni, ma è chiaro che tutto è vincolato alle cose che si riescono a fare. Noi vogliamo dare risposte ai cittadini.